Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Artie e poi ci siamo qui in quest'anno in Commentary o ci siamo qui con un altro video per quanto riguarda un bug di Black Ops 4. Mi dispiace un po' fare questi video perché appunto il gioco so già che non è apprezzato da moltissimi giocatori però quando ci sono dei bug abbastanza importanti come anche questo o come quello di Dead of the Night per quanto riguardava Scudo e Wonder Weapon mi sembra giusto fare un video perché almeno tutti quanti possono sapere di questo problema e magari appunto se più persone lo vedono arriverà prima la trailer e ci possono sistemarlo il prima possibile. Il bug stavolta riguarda un perk, ovvero ultimo desiderio quello che teoricamente ci permette di avere letteralmente delle sopravvivenze in più perché ci manda in modalità Berserk per circa 9 secondi rimaniamo con 1 di vita ma possiamo sopravvivere inoltre dopo un tot di tempo il perk si ricarica ogni volta ci mette sempre più tempo prima 9 minuti, poi 13, poi 17 e così via ed è uno dei perk praticamente obbligatori per chi vuole fare iRound. Ora, i problemi che andiamo a incontrare secondo me sono due anche se uno non ne sono sicuro al 100% anche perché di recente penso abbiano cambiato la descrizione del perk almeno questo è quello che penso io correggetemi magari nei commenti se mi sbaglio però appunto mi sembrava che un tempo una volta in modalità Berserk dopo che ci hanno appunto praticamente ucciso gli zombie teoricamente in quei 9 secondi che eravamo invulnerabili avevamo 1 di vita non dovevano teoricamente seguirci questa cosa adesso penso sia differente perché appunto gli zombie continuano a seguirti e mi sembra appunto che al lancio fosse diverso non soltanto la descrizione del perk ma appunto il suo funzionamento ovvero una volta andati in Berserk gli zombie correvano via noi avevamo 1 di vita o tornava subito a 200% se avevamo il perk nel modificatore però appunto in quei 9 secondi eravamo praticamente immortali potevamo scappare in un punto sicuro rigenerarci e poi continuare la nostra partita ripeto questo è quello che mi ricordo io e anche alcuni miei amici mi hanno confermato che teoricamente un tempo il perk funzionava in questo modo quindi oggi è stato un cambiamento repentino da parte della Treyarch non annunciato o soltanto noi ci ricordiamo tutti molto male l'altro problema è molto grosso e facilmente riscontrabile capita ogni tanto che invece che andare in modalità Berserk andiamo direttamente a terra cosa che appunto il perk dovrebbe evitare dato che viene comprato apposta per avere letteralmente dei revive in più perché appunto non ci ritroviamo al pavimento in modalità sopravvivenza perdendo anche alcuni perk ma semplicemente andiamo con 1 di vita per 9 secondi però teniamo tutti i perk e la partita comunque continua abbastanza tranquillamente infatti ringrazio per la segnalazione e la clip molto importante Chill Frankie su Instagram o JustLeo115 su YouTube perché durante una sua partita su Dead of the Night molto importante a un round davvero alto gli è capitato questo bug ovvero appunto è rimasto bloccato dagli zombie è andato a terra ma teoricamente aveva ultimo desiderio quindi doveva finire in modalità Berserk quindi diceva vabbè ho perso un Berserk comunque la partita continua invece lui si è ritrovato proprio al pavimento come fosse stato ucciso normalmente senza il perk e questa cosa non deve affatto accadere soprattutto a un round così alto e oltre lui ringrazio anche Gianni mio amico che anche a lui è capitato di recente questa cosa circa forse 2 o 3 settimane fa in cui appunto è andato una partita questa è una clip sua gli è successa la stessa cosa ovvero è rimasto bloccato dagli zombie ed è finito direttamente a terra nonostante avesse il perk attivo a questo punto io con già queste due prove ho detto va bene dai con due prove facciamo anche tre vado a fare dei test qui sono andato in Castle Mutations mi sono messo moltissimi punti al round 1 per comprare subito ultimo desiderio mi sono messo un pochino a testare la prima volta è capitato quello che penso non dovrebbe accadere ovvero che gli zombie hanno continuato a seguirmi anche in modalità berserk questa cosa non so se deve accadere oppure no però comunque è un pochino strano almeno a mio parere però se invece questo è il suo funzionamento almeno questo funziona bene dopodiché ho fatto ricaricare il perk aspettando i 9 minuti girando in tondo con gli zombie dopodiché ho riprovato a questo punto mi è successo anche a me ovvero invece che finire nuovamente in berserk sono finito a terra e ho perso uno dei miei revive e ripeto questa cosa non dovrebbe affatto succedere perché il funzionamento del perk è proprio evitare questa cosa dopodiché ci ho riprovato una seconda volta ricomprando il perk facendolo disattivare e ricaricandolo invece questa volta sono finito nuovamente in modalità berserk quindi questo bug non capita sempre anche perché proprio di recente Cilfranchi mi ha scritto su Instagram dicendo che in una sua partita lui è andato in berserk 4 volte e non è finito mai a terra quindi penso sia soltanto un bug che può succedere casualmente ma è comunque un bug che va risolto perché appunto il perk è veramente importante per certi giocatori non per forza magari chi fa i round però se magari durante una boss fight uno dovrebbe finire in berserk invece finisce a terra e diventa game over non è sicuramente una bella situazione per cui ragazzi se usate ultimo desiderio sappiate che comunque il perk di base dovrebbe più o meno funzionare ma se finite a terra ogni tanto sappiate che è questo problema qui ripeto appunto che è completamente casuale quindi potrebbe succedere potrebbe non succedere è soltanto fortuna personale per cui ringrazio nuovamente sia il mio amico Gianni sia Cilfranchi vi lascio il suo canale YouTube JustLeo115 in descrizione seguitelo perché comunque fa dei round veramente alti ed è davvero bravo per cui supportatelo un pochino durante le streaming o durante comunque le sue partite perché secondo me solo merita davvero molto e lo ringrazio anche un pochino per le nostre parlate su Instagram perché appunto tutte e due ci siamo messi un pochino a lavorare su questi test con il perk e anche a pensare quale fosse il problema spero come sempre ragazzi che il video di oggi vi sia piaciuto e vi sia stato utile vi invito a iscrivervi al canale per seguire tutte le news per quanto riguarda Black Ops 4 Zombie e noi ci vediamo come al solito in un prossimo video un abbraccio ala